ragazzi io non so che cosa dire su questo perché una persona ci ha lasciato e quindi grazie a Dio che lo fa rendere grande e orgoglioso perché è una persona importante come segno per Berlusconi leader di Forza Italia e io per questo dico la mia che però non ce lo meritava questa morte però è scoppiato all'impromisso questa notizia natura sport ok quindi Berlusconi ci lascia a 86 anni che è stato un leader di Forza Italia e io per questo ne sono grato per tutto quello che ha fatto Simio Berlusconi quindi un grande in bocca d'upo a te Simio quindi mi raccomando e noi dalla Iume dobbiamo presentare anche questo comunicato perché ci lascia una persona così davvero importante che come segno Berlusconi non ce n'è e il fatto che segno ci ha lasciati noi che dimagra di Can Mocha nurno adio nurno on ispirato addio si è mio ti voglio bene